buonasera a tutti io sono luca fiore questo è oggi in borsa di mercoledì 23 marzo 2022 chiusura in rosso per le borse europee segno meno anche a wall street dove il nasdaq segna meno 0 23 per cento la sp 500 quota in calo dello 0 62 per cento ma vendite più consistenti in europa dove l'euro stock 50 ha chiuso in calo del 1 44 per cento e nostro fuzzimi ha perso quasi un punto percentuale fermandosi a 24 mila 298 virgola 66 punti come è normale che sia la direzionalità dei mercati è data dalle indicazioni in arrivo dalla dalla russia mentre i paesi occidentali si preparano ad approvare nuove nuove sanzioni dalla russia hanno fatto sapere che non saranno più accettati i pagamenti in dollari ed euro per il gas consegnato in europa si potrà pagare solo in rubli questa è una mossa appunto come che viene utilizzata per evitare la svalutazione eccessiva della della moneta e a proposito della della banca centrale ha annunciato che domani la borsa la borsa di mosca riaprirà i battenti e secondo quando riportato dall'agenzia bloomberg quando è stata dichiarata guerra al all'ucraina la governatrice dell'istituto elvira neabilina e aveva ha rassegnato le dimissioni che sono state respinte a piazza affari la performance migliore è stata registrata dal titolo saipem che ha chiuso il rialzo del 72 per cento dopo le indiscrezioni secondo cui eni che ha fatto un più 0 9 per cento la cassa depositi e prestiti ed un pool di banche sarebbero prontati un iniezione di liquidità di 1,5 miliardi di euro in vista dell'aumento di capitale da 2 miliardi complessivi bene anche tenares più 2 78 per cento e eni come detto più 0 9 per cento la prospettiva di un rialzo delle spese mitari ha continuato a sostenere leonardo più 2 65 per cento indietro la lavagna invece troviamo le utilities con il meno 3 58 per cento di era ed il meno 273 per cento di italgaz male anche le banche meno 2 96 per cento per unicredit e meno 2 48 per cento di intesa san paolo tra le performance in rilievo di oggi c'è anche quella di poste italiane che ha chiuso con un meno 0 14 per cento dopo la revisione al rialzo del target 2000 del dell'utile sul 2022 stimato a 1,4 miliardi dopo aver chiuso il l'esercizio 2021 con un utile rialzo del 31 per cento 1,6 miliardi un calo anche stellanti su meno 1 54 per cento che ha confermato che l'impianto di termoli molise sarà trasformato in un nuovo impianto dedicato alla produzione di batterie e sul completo segnaliamo il il rialzo di 9 e del 9 41 per cento di fila e più 8 e 6 per cento di ratti metà tra le performance peggiori meno 8 12 per cento di bialetti e meno 491 di new lat per quanto riguarda il comparto obbligazionale lo spread btp bund è salito di un punto e mezzo percentuale a 155 punti base nel giorno in cui il ministero dell'economia ha collocato via sindacato la prima trans del nuovo cct ancorato all'inflazione europea con scadenza 15 ottobre 2030 le richieste sono state particolarmente abbondanti il titolo è stato è stato collocato ad un rendimento pari a 78 punti base sull'Euribor a 6 mesi inizialmente era stato collocato a 80 punti base quindi insomma la situazione è andata lentamente migliorando da money.it per oggi è tutto l'appuntamento è a domani buona serata grazie a tutti